Il seguente gameplay, è stato registrato su PlayStation 5 con settaggi impostati al minimo. Il seguente gameplay, è stato registrato su PlayStation 5. Il seguente gameplay, è stato registrato su PlayStation 5. Il seguente gameplay, è stato registrato su PlayStation 5. Il seguente gameplay, è stato registrato su PlayStation 5. Il seguente gameplay, è stato registrato su PlayStation 5. Il seguente gameplay, è stato registrato su PlayStation 5. Il seguente gameplay, è stato registrato su PlayStation 5. Il seguente gameplay, è stato registrato su PlayStation 5. Il seguente gameplay, è stato registrato su PlayStation 5. Il seguente gameplay, è stato registrato su PlayStation 5.